Per il secondo anno consecutivo il Memorial per il collega scomparso prematuramente, che effetto fa? Siamo qui di nuovo, a distanza di un anno, a festeggiare il nostro collega Alessandro Leonardi, festeggiarlo perché lo ricordiamo sempre con affetto e amore e è una persona che meritava, merita il nostro ricordo e merita di essere festeggiato. Siamo qui in suonore e spero che sia una bella festa di sport, di aggregazione, come lui era uno sportivo. Anche quest'anno abbiamo la presenza di sua moglie e di suo figlio, questo ci onora molto e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo evento, che stanno partecipando a questo evento e che hanno dato una mano a noi carabinieri affinché lo stesso anche quest'anno potesse essere realizzato.